Ho scritto, non c'è scritto un rec. Adesso si è messo. Non metti così, si è messo. Dai, girati. Girati! Girati. Bè! Dai! Dai! E qua la cosa c'è scritto, non c'è scritto un rec. Adesso si è messo. Dai, come lo chiama? Girati! Dai! No, aspetta, sì. Oh, Maria! Dai! Ma che mi riprende? Dai! Che, contenta? Non ci ferma, non ci ferma. Non ci ferma, non ci ferma. Un primo piano? No, più. Dai! Che, contenta? No, aspetta, sì. Oh, Maria! No! Dai, non ci fermi, no? Dai, ho finito di registrare. Non ci ferma? No. Ho finito di registrare. Sì, sono scema. Dai! Dai, non lo metti. Tu devi vedere la maschera. Cos'è che lo metti? La tua pagina. No, la vendi? Sì. Non è vero. Dai, non lo metti, va. Dai, ho finito di registrare. Dai, non lo metti. Dai, non lo metti. Dai, ecco te ne. Dai, non lo metti. Sì, sono scema. Dai! Lo metti, non lo metti. Sì, dai. Guarda. Così cosa vedi? Dai, dobbiamo fare la scena di acqua. Dai! No, te lo dici. Non lo metti. Dai, vengo male. Non frego, te ne. Dai! Non me ne frego io, non frega te ne puoi. Ho finito? No. Sì, dai. Dai! Dai, dobbiamo fare la scena di acqua. Dai! Ma perché non hai registrato? Dai! Basta, va. No, toglilo. Vedi? Ti togli. No. Cucu! 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 Non vado niente. Cucu! Cucu! Non si vede niente. Non si vede niente, perché? Guarda quel quadronato. Guarda quel quadronato. Guarda il Torino, si vede niente. Guarda la che... Guarda l'idea. È spenta. No, è tutto appannato. Fai vedere? Ah! Noi vuoi fare? Eh? Guarda. Non vado niente. Adesso però sì. No, scommettiamo. Dai, fai vedere. Cucu! Non si vede niente. Perché? Non si vede niente. Dai! È spenta. È spenta.